Vivere, ascoltare, scoprire, questo è il nostro motto, ma prima di tutto mi presento. Mi chiamo Elisabetta e sono qui per presentarvi il blog che io e il mio gruppo abbiamo deciso di creare per parlare liberamente di musica digitale e sound art. Con questo intendiamo dire che cercheremo di scoprire come la musica digitale si è cambiata nel corso degli anni e come essa abbia modificato il modo di sentire e vivere la musica. Ovviamente vi teremo informati su tutto ciò che la influenza e tutto ciò che la rende così meravigliosa. Cosa pensate di trovare sulla nostra pagina? Beh, troverete eventi, video, interviste, articoli e ovviamente nuovi sound. Beh, cos'altro c'è da dire? Ci sentiamo sul nostro blog, ma mi raccomando, non smettete mai di ascoltare come suona il mondo. Grazie a tutti.